Liberalizzare i voli su Malpensa è questa la parola d'ordine di Roberto Castelli. Votare l'emendamento 1915 per l'immediata liberalizzazione delle rotte, secondo il sottosegretario delle infrastrutture per il capogruppo della Lega Nord, Roberto Cota, è l'unico modo per giungere ad una soluzione che non penalizzi i lavoratori, imprenditori e viaggiatori padani. Il senatore Castelli, che conduce per conto della Lega Nord le trattative per salvare l'aeroporto Varesino di Malpensa, ritiene che l'aeroporto debba essere lasciato libero di lavorare e sottolinea come l'impegno della CAE per lo sviluppo di Malpensa, limiti di fatto Linate. Il city airport di Milano infatti verrebbe limitato alla sola navetta tra Milano e Roma già a partire da marzo 2009. Un colpo di grazia che configura la chiusura di Linate proprio in vista dell'Expo 2015. Il paese sottolinea il sottosegretario delle infrastrutture Roberto Castelli abbandonando Malpensa già perso 2,8 miliardi di euro di pil. È dunque interesse di tutti cercare di valorizzare lo scalo e riportarlo almeno ai livelli di traffico del periodo precedente all'abbandono degli slot da parte di Alitalia. Secondo Castelli è necessario aprire ulteriori compagnie aeree attraverso accordi bilaterali, ma è la compagnia aerea tedesca Lufthansa a fornire maggiori garanzie per il rilancio di Malpensa in tempi brevi. Stessa linea anche per l'assessore al territorio urbanistica della regione Lombardia Davide Boni, che sottolinea come il principale aeroporto Lombardo non debba essere ridimensionato perché in collaborazione con gli altri aeroporti Lombardi è vitale per la salvaguardia economica della regione. Lega Nord è dunque tutta schierata in difesa degli interessi dei cittadini padani che devono avere il diritto di volare nel modo più efficiente, comodo ed economico possibile, cosa che non avverrà trasferendo i voli da Malpensa a Fiumicino. Alza la voce anche Mario Borghezio che ricorda come Fiumicino sia in una posizione geografica preeminentemente mediterranea, mentre l'Hub di Malpensa non è fondamentale solo per i cittadini padani, ma anche per tutti i cittadini europei.